Quando me ne arriva nel tempo, poi siamo impegnati con degli altri ragazzi, siamo un gruppo, cerchiamo di fare attività di ogni genere, sia a livello teatrale, sia a livello di promozione sociale. Il primo contatto che ho avuto con questo progetto è stato nell'82, ho un seminario avuto a laurea e anche se inizialmente la cosa era un poco vaga, poi si è delineata bene ed è risultato uno strumento molto utile per riuscire a fare qualcosa di più. Noi eravamo un gruppo di ragazzi con delle iniziative di promozione sociale, però senza i mezzi per poterlo realizzare e senza nemmeno i sostegni, per cui ci siamo già trovati per la strada, però con in più una mano e una veste non diciamo ufficiale, ma che bene o male ci permetteva di essere abbastanza riconosciuti. Ora poi si pone un altro motivo di stimolo per i ragazzi, cioè avremo la possibilità con la comunità montana di fare un tour nei paesi proprio del Vulture, dove probabilmente rappresenteremo per una decina di volte le commedie che abbiamo fatto. I giovani adesso diciamo che sono tutti abbastanza raccolti come gruppo o come gruppi, comunque tutti collegati nel tentativo di cercare di fermare tutta questa corsa all'estinzione del paese, perché se no ci ritroveremo veramente ad avere un paese nuovo pieno di fantasmi. Il giovane d'oggi, nonostante tutte le cose negative che si dicono su di lui, in realtà ha abbastanza voglia di fare. L'unica cosa che forse gli si può imputare è il fatto di non muoversi troppo, quindi ha sempre bisogno di qualcuno che lo prenda per mano e che lo guidi, ecco. Per il corso di animazione teatrale, il gruppo teatrale La Farsa di Ruvo del Monte presenta Natale in casa Cupirlo di Edoardo De Filippo. La prima è una scena mattutina, raffigurante il momento in cui Tommasino si alza e discute con il padre. La seconda concerne un litigio tra Luca, suo figlio Tommasino e suo fratello Pasquale, in merito al furto di 5.000 lire. Tommasino, guarda, qua ci mettono tutte le montagne con la neve sulle, qua ci mettono le casette piccole per la lontananza, qua ci viene l'osteria, il laghetto con il pescatore e qua la grotta con il bambino e Gesù. Ti piace? No? Beh, certo, quella adesso è abbozzata, ancora non si può dare un giudizio. Ti faccio pure due cravate, che quelle che tieni è diventate lungiglie e ti regalo 10.000 lire, così a Natale puoi fare belle figure con gli amici, con i compagni, puoi offrire qualche cosa. Ehi, e qua, guarda, qui ci mettono tutti i pasturi e di qui faccio scendere la cascata d'acqua, ma faccio scendere l'acqua vera. Già, l'acqua vera. Eh, sì, 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 l'acqua vera, metto l'interoclismo dietro e esce l'acqua vera. Ti piace? Sì, no. Ma io non mi faccio capace, ma lo vuoi capire che il presempio è una cosa religiosa? Una cosa religiosa con l'interoclismo è da dietro, ma fammi il piacere. Eh, la questione è che tu vuoi fare il giovane moderno, ti vuoi sentire superiore. Ma come si può dire, non mi piace, se quello non è finito ancora. Ma pure quando è finito non mi piace. E allora va a te, in casa mia non ti voglio. Me ne vado. E trovati un lavoro e non ti far vedere mai più. Ma guardatelo poco, quello non mi piace, mi deve piacere per forza. Ma dalla casa mia te ne vado. Il presempio non mi piace. Ma tu te ne vai perché in questa casa si fanno i presempi. Me ne vado. Come mangio la soppa e il latte e poi me ne vado. E Tommasì? Sta dentro con tuo fratello, il quale ha comprato 5.000 lire e diceva se l'ha pigliato in un libro nostro. Eh già, come se fosse una novità. C'è sordi spariscono veramente. Don Vittorio, fatemi un favore. Ditecelo pure voi a Tommasì. Quella a Macare, a un amico lo sta a sentire. A una persona di famiglia invece no. Però stavolto è scogitato un trucchetto, una trappolina. Casio un po' c'è a Tommasì lo faccio far marino. Perché ladro no. Come vedi non si è trovata. Io sono innocente. Lo carico è che sta a prenderci camminare lì. Non è vero. Piano, piano, adesso assodiamo il fatto. Io non ne so niente. Stacca il sito tu. Pasqualì, tu tieni torta. Ah, ha già torta. Eh bene, tieni torta perché non vuoi accusare. Senza avere la prova irrefrenabile. Tu me lo dici a me. Io faccio l'indagine. E se hai ragione ti do la soddisfazione. Vieni qua. Fammi vedere dentro le tasche. Ma è cosa che devo essere trattato come un ladro. Stacca il sito. Io sono tuo padre. Fammi vedere. Guarda cosa trova ha 5.000 euro. Ma è cosa che mi devo far fare sempre queste figure. Ti piace lo tre segno? Ti piace lo tre segno? No. Non ti piace. Non mi piace. Ecco la 5.000 euro. Io lo sapevo. Vergogna, sei lato. Ma non mi piace però. Ecco la croce. Fammi vedere. Quello ci ha fatto il segno e adesso non puoi negare più. Pasqualì, qua c'è stata la stella che ci ho fatto. Dove? Qua, spesso mi mancavano i soldi e allora ci ho fatto un segno. Eh, sarà stato. Allora tu arroba a me e se arroba a te. Eh, aspetta un momento. Pasqual, lascia stare i soldi miei e io ti ho salto. Ma lo vuoi capire che il presepio è una cosa religiosa? Una cosa religiosa con l'intero crismo è da dietro. Ma fammi il piacere. Eh, la questione è che tu vuoi fare il giovane moderno. Ti vuoi sentire superiore. Ma come si può dire? Non mi piace se quello non è finito ancora. Ma pure quando è finito non mi piace. E allora vatti in casa mia e non ti voglio. Me ne vado. E trovati un lavoro e non ti far vedere mai più. Ma guardate un lavoro e quello non mi piace. Mi deve piacere per forza. Ma dalla casa mia te ne vado. E il presepio non mi piace. Ma tu te ne vai perché in questa casa si fanno i presepio. Me ne vado. Come mangio la soppa e il latte e poi me ne vado. E' Tommasino. Sta dentro con tuo fratello. O quale ha comprato 5.000 lire e diceva se l'ha pigliato in un euro nostri. Eh già. Come se fosse una novità. C'è i soldi spariscono veramente. Don Vittorio. Fatemi un favore. Ditecelo pure voi a Tommasino. Quello a macare. A un amico lo sta a sentire. A una persona di famiglia invece no. Però stavolto è scogitato un trucchetto. Una trappolina. Casio un goccio a Tommasino lo faccio fare a marino. Perché ladro no. Come vedi non si è trovata. Io sono innocente. Lo carico è stato a piacere se cammina lì. Non è vero. Piano piano. Adesso assodiamo il fatto. Io non ne so niente. Stacca il sito tu. Pasquale tu tieni torta. Ah già torta. Eh bene. Tieni torta perché non vuoi accusare. Senza avere la prova irrefrenabile. Tu me lo dici a me. Io faccio l'indagine. E se hai ragione ti do la soddisfazione. Vieni qua. Fammi vedere dentro le tasche. Ma che cosa che devo essere trattato come un ladro? Stato zitto. Io sono tuo padre. Fammi vedere. Guarda che si trova a 5 mila. Ma è cosa che mi devo far fare sempre queste figure. Ti piace un preseglie? Ti piace un preseglie? No. Non ti piace? Non mi piace. Ecco a 5 mila lì. Io lo sapevo. Vergogna sei lato. Ma non mi piace però. Ecco la croce. Fammi vedere. Quello ci ha fatto il segno e adesso non puoi negare più. Ecco. Pasqualino. Qua ci sta la stella che ci ho fatto un segno. Dove? Qua. Spesso mi mancavano i soldi e allora ci ho fatto un segno. E sarà stato. Allora tu io non mi faccio capace. Ma lo vuoi capire che il preseglie è una cosa religiosa. Una cosa religiosa con l'intero crissime da dietro. Ma fammi il piacere. Ehi. La questione è che tu vuoi fare il giovane moderno. Ti vuoi sentire superiore. Ma come si può dire? Non mi piace. Se quello non è finito ancora. Ma pure quando è finito non mi piace. E allora vatti. In casa mia non ti vuoi. Me ne vado. E trovate un lavoro e non ti far vedere mai più. Ma guardate un po'. Quello non mi piace. Mi deve piacere per forza. Ma dalla casa mia te ne vado. Il presepio non mi piace. Ma tu te ne vai perché in questa casa si fanno i presepio. Me ne vado. Ma mi mangio la zuppa e il latte e poi me ne vado. E Tommasino? Sta dentro con tuo fratello. O quale ha comprato 5.000 lire e diceva se l'ha pigliato in un nero nostri. Eh già. Come se fosse una novità. C'è i soldi spariscono veramente. Don Vittorio. Fatemi un favore. Ditecelo pure voi a Tommasino. Quello a macare. A un amico lo sta a sentire. A una persona di famiglia invece no. Però stavolto è scogitato un trucchetto. Una trappolina. Casio un goccio a Tommasino lo faccio fare a marina. Perché ladro no. Come vedi non si è trovata. Io sono innocente. Lo carico è stato a piatto se cammina lì. Non è vero. Piano piano adesso assodiamo il fatto. Io non ne so niente. Stacca il sito tu. Pasqualì tu tieni tolto. Ah già tolto. Eh bene. Tieni tolto perché non vuoi accusare senza avere la prova irrefrenabile. Tu me lo dici a me. Io faccio l'indagine. E se hai ragione ti do la soddisfazione. Vieni qua. Fammi vedere dentro le tasche. Ma che cosa che devo essere trattato come un ladro? Stato zitti. Io sono tuo padre. Fammi vedere. Guarda che si trova a cinque mila lire. Ma è cosa che mi devo far fare sempre queste figure. Ti piace lo tre segno? Ti piace lo tre segno? No. Non ti piace. Non mi piace. Ecco a cinque mila lire. Io lo sapevo. Vergogna sei lato. Ma non mi piace però. Ecco la croce. Fammi vedere. Quello ci ha fatto il segno. E adesso non puoi negare più. Ecco. Pasqualino. Qua ci sta la stella che ci ho fatto. Dove? Qua. Spesso mi mancavano i soldi. Allora ci ho fatto il segno. E sarà stato.